Non è Venezia e non è carnevale senza le sue maschere colorate, che vengono spesso indossate da bambini, ma non solo, anche da adulti. Adesso entriamo insieme in uno dei negozi storici più antichi della città. Venite con me! Ed eccoci qui con Francesco che sta realizzando una delle maschere artigianali che sono soliti fare qui. Le loro maschere sono state utilizzate anche in numerosi film, come quello di Kubrick con Tom Cruise. Ti va di raccontarci qualcosa? Sì, hanno scelto tre maschere per il film di Stanley Kubrick, che era Iceway Shot con Tom Cruise e una di quelle è questa, utilizzata proprio da Tom. Era la prima serie e veniva fatta ancora in cartapesta e gesso. Bellissima, davvero stupenda. Continuiamo ancora a farla adesso con questa tecnica. Grazie mille di tutto, è stato davvero un piacere scoprire la tua arte. grazie.